Nello scorso video abbiamo iniziato la playlist relativa alle disequazioni di primo grado abbiamo visto la sua definizione, abbiamo visto che se si moltiplica prima quantità negativa la disequazione bisogna invertire verso disuguaglianza e abbiamo visto come si risolvono in questa lezione parleremo dei sistemi di disequazioni di primo grado che sono molto importanti anche per introdurvi ai sistemi successivamente di disequazioni di secondo grado Allora che cos'è un sistema di disequazioni di primo grado? Beh è un insieme di disequazioni tutte di primo grado, attenzione devono essere tutte di primo grado che devono valere tutte contemporaneamente Allora come si indica il sistema? Si indica con la parentesi graffa Allora qui abbiamo disequazione 1, qui abbiamo una disequazione 2 fino ad avere infinite disequazioni sono tutte di primo grado, per avere la soluzione del sistema dobbiamo risolvere prima singolarmente tutte le disequazioni e poi vedere dove il sistema si dice essere verificato cioè dove, in quale zona, tutte le disequazioni sono vere Allora qui non conviene perderci molte chiacchiere, più che altro conviene fare degli esempi pratici per farvi capire un po' come funziona Supponiamo di avere il seguente sistema di disequazioni Allora, sistema, abbiamo x più 2 maggiore o uguale di 5 poi abbiamo x più 1 minore di 0 Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo risolvere le singole disequazioni Allora, questa cosa ci tira fuori? Allora, spostiamo il 2 dall'altra parte e quindi viene x maggiore o uguale di 5 meno 2 che fa 3 Questo invece, basta spostare 1 dall'altra parte e abbiamo risolto x minore di meno 1 Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere a confronto queste due soluzioni Abbiamo meno 1 qui e 3 qui Allora, abbassiamo queste linee Allora, prima disequazione dove è verificata? Per x maggiore o uguale di 3 Quindi x maggiore o uguale di 3 Mentre qui x minore di meno 1 Allora, qui notiamo una cosa particolare Perché dobbiamo trovare quella regione Quello spazio dove le due disequazioni sono verificate entrambe Allora, qui è verificata la seconda ma non la prima Quindi non va bene Qui non sono verificate nessuna delle due Qui è verificata solo la prima e la seconda no Quindi non esiste una regione dove sono verificate entrambe Quindi che significa? Questo sistema è impossibile Non ha nessuna soluzione Perché o è verificata la prima o è verificata la seconda Ma non sono mai verificate entrambe Allora, andiamo a vedere un altro esempio Supponiamo di avere x più 2 maggiore di 0 E poi supponiamo di avere x meno 3 minore di 0 Allora, qui che cosa succede? Dalla prima abbiamo che x deve essere maggiore di meno 2 Mentre dalla seconda abbiamo che x deve essere minore di 3 Mettiamo a confronto queste due soluzioni Allora, qui abbiamo meno 2 e qui abbiamo 3 Allora, qui che cosa succede rispetto a prima? Beh, la prima disequazione è verificata a destra di meno 2 Mentre la seconda è verificata a sinistra di 3 Quindi in questo modo In questo caso esiste una regione dove sono verificate entrambe Cioè al centro E questa rappresenta la soluzione del sistema Quindi la soluzione del sistema è x minore x maggiore del più piccolo e minore del più grande Cioè x compreso tra meno 2 e 3 Allora, adesso andiamo a vedere un sistema con 3 disequazioni Supponiamo di avere 2x più 2 Maggiore o uguale di x meno 1 Poi supponiamo di avere x più 2 Maggiore o uguale di 1 E poi abbiamo x meno 3 minore di 0 Allora, dalla prima cosa ricaviamo? Beh, x lo spostiamo dall'altra parte Diventa 2x meno x che fa x Maggiore o uguale di 2 Lo spostiamo dall'altra parte Diventa meno 2 Meno 2 meno 1 fa meno 3 Allora, poi qui che cosa abbiamo? x maggiore o uguale di che cosa? Meno 2 più 1 Cioè meno 1 E poi qui abbiamo x minore di 3 Allora, mettiamo a confronto queste soluzioni Allora, il meno 3 è ovviamente il più negativo Quindi il più piccolo Poi abbiamo meno 1 E poi abbiamo 3 Allora, qui le disequazioni sono 3 Ovviamente non cambia nulla Anche se le disequazioni diventano tante La questione è sempre la stessa Allora, la prima è verificata a destra di meno 3 Quindi in questo modo Poi la seconda a destra di meno 1 Quindi in questo modo Mentre la terza a sinistra di 3 Quindi in questo modo Esiste una regione di spazio dove sono verificate tutte 3 Allora, qui no Qui no Qui sì E qui no Quindi la nostra soluzione è da meno 1 a 3 Ora, state bene attenti Perché Allora, meno 1 è da includere oppure no? Allora, per verificare Perché ovviamente Vedete, qui c'è il segno di uguale Allora, mi sono dimenticato di disegnarlo Ma qui il meno 3 è incluso E qui è incluso il meno 1 Ora, visto che dobbiamo andare da meno 1 a 3 La domanda legittima è Il meno 1 è incluso Allora, dobbiamo verificare Allora, dobbiamo controllare Allora, nella seconda ovviamente è incluso Perché deriva proprio da qui la sua inclusione Poi Nella prima disequazione il meno 1 è incluso Allora, dal disegno si vede proprio che è incluso Però andiamo a fare una verifica Prendiamo la prima disequazione E gli sostituiamo il meno 1 Per vedere se ci dà una cosa valida Meno 1 Lo sostituiamo qui Meno 1 maggiore o uguale di meno 3 Ovviamente sì Perché è meno negativo Quindi è più grande Vediamo l'ultima disequazione Anche qui si vede che è incluso Vedete dal disegno Il meno 1 qui c'è Però prendete il meno 1 E lo sostituite qui Allora, meno 1 meno 3 fa meno 4 Meno 4 è più piccolo di 0 Sì E quindi va bene Quindi che significa? Che la nostra x Deve essere maggiore o uguale di meno 1 E deve essere minore di 3 La domanda è Perché il 3 non lo stiamo includendo? Ovviamente non lo stiamo includendo Perché non va bene Ad esempio alla terza disequazione Perché 3 meno 3 fa 0 E 0 non è minore di 0 Poi ovviamente alle altre va bene Però basta una sola dove non va bene E ovviamente non lo possiamo includere Ovviamente se il 3 qui andava bene Potevamo tranquillamente includerlo Però vedete qui ci doveva essere il segno di uguale Se c'era il segno di uguale Potevamo includerlo Direi che il sistema di disequazioni di primo grado È un concetto abbastanza semplice Perché dovete semplicemente Risolvere tutte le disequazioni di primo grado E vedere dove sono verificate tutte Con questo video abbiamo terminato Come al solito se il video è piaciuto Metti un mi piace Commenta, condividi E ci vediamo al prossimo video Ciao Grazie a tutti.